Come mai Ethereum non è ancora to the moon? Come mai Stealthcoin non partono? Come mai Bitcoin sta lateralizzando eppure hanno detto che taglieranno i tassi? Ma cosa sta succedendo? In questo video andiamo a fare un po' di chiarezza per capire quello che sta effettivamente succedendo sui mercati. È un video fuori programma che però ho sentito la necessità di fare perché in tanti mi stanno scrivendo, mi stanno facendo questo tipo di domande e mi stanno anche chiedendo di specificare bene quello che ho detto lunedì con il video sui tassi di interesse. Se te lo sei perso qua sotto ti lascio il link. Infatti pare che quel video abbia creato scalpore perché io sono andato controcorrente rispetto a quello che la maggior parte di colleghi o comunque la maggior parte di analisti dice riguardo i tassi di interesse. Cioè tagliare i tassi significa mercato up. Ok ma va contestualizzato e quello che ho fatto in quel video è stato appunto contestualizzare e quello che farò in un prossimo video che uscirà penso già la prossima settimana andremo a chiarire ulteriormente il concetto dei tassi di interesse per capire effettivamente che cosa comportano sui mercati in una lezione mirata dove spiego dalla A alla Z come interpretare e come cavalcare le notizie sui tagli o gli aumenti dei tassi di interesse. Quindi assicurati di non perdertelo, clicca il tastino che vedi qua, iscriviti al canale e iscriviti così rimani aggiornato al momento in cui uscirà questo video. Andiamo sul nostro mercato. Sul nostro mercato vediamo Bitcoin che ha riassorbito. Eppure molti hanno detto oh cavolo uscita la notizia di tassi di interesse e il prezzo sparerà. In realtà vediamo che c'è un riassorbimento. Su Wall Street neanche ve lo sto a dire, mi hanno scritto tantissimi dicendomi ma perché le azioni stanno crollando, perché le big tech stanno crollando, perché tutto è rosso, oddio. A parte che parliamo di un 3-4% di rosso se non sbaglio su SP500 quindi più o meno non è che sia, insomma, oddio moriamo tutti. E un po' di rosso sì ma niente di che. Soprattutto se si è sul mercato cripto un 3-4% è praticamente flat per la maggior parte di cripto investitori quindi non è assolutamente nulla. Capisco che chi invece sull'azionario un 3-4% possa essere oddio moriremo tutti. Il fatto è che, ragazzi, io l'ho detto, l'economia sta rallentando. Il fatto che vengano tagliati i tassi di interesse non è che vengono tagliati così tanto per. Vengono tagliati per far fronte ad un rallentamento dell'economia. Un rallentamento dell'economia significa un calo sui mercati. È sempre stato così. In queste fasi il miglior consiglio che io possa dare, consiglio non finanziario perché non sono un consulente finanziario ma sono un imprenditore, sono un investitore, so leggere determinati dati e ti posso dire che avere del cash da parte in questa fase può essere estremamente interessante e utile perché ci si apre a scenari interessanti di accumulo se i prezzi andranno effettivamente giù. Rimanendo strettamente sul nostro mercato cripto, in particolare su bitcoin, vediamo che c'è stato un ulteriore riassorbimento, vediamo anche un'altra cosa importantissima da tenere in considerazione che è questo, quindi questo è un po' il tetto, no? La resistenza che dobbiamo rompere. Finché non rompiamo questa resistenza non succederà assolutamente nulla bitcoin, anzi aumentano le probabilità che si vada a ritracciare. Ora una cosa importante, è vero abbiamo visto questo calo, ciò non toglie che il prezzo possa, appena iniziano magari a tagliare anche i tassi, rivedere una ripartenza, quindi magari tornare, fammi dire, di nuovo a testare quest'area ed è qui che poi dobbiamo guardare. E' questo quello che dobbiamo tenere in considerazione. Quest'area qui è tutto ciò che interessa a noi. Perché? Rimbalzare nuovamente significa riportare di nuovo il prezzo a lateralizzare, a fare il noioso. Rompere a rialzo potrebbe proiettare il prezzo verso gli 80k ed è questo quello che dobbiamo tenere in considerazione in questo momento. Perché il mercato sta aspettando solo che bitcoin si muova. Però per succedere devono verificarsi delle condizioni che adesso vedremo insieme. Quindi ti faccio uno specchietto un attimo di cosa sta succedendo su bitcoin, uno specchietto di quello che sta succedendo su ethereum e poi in generale parliamo di altcoin e andiamo ad analizzare un paio di indicatori fondamentali che utilizzo spesso e che poi ti lascerò in modo che anche tu possa utilizzarli e tenerne conto. Torniamo qui. Vediamo un attimo lato ETF. Cosa succede? E' inutile che io ti vada a mostrare cosa succede a bitcoin lato retail. Perché è inutile? Perché c'è un piattume ragazzi da bear market. La gente non si sta cagando minimamente bitcoin, ethereum e il mondo cripto. Sono tutti impegnati a tappare sui giochini di ton, ok? Che non vuol dire che ton farà il to the moon. Vuol dire che anche lì rientriamo nelle stesse dinamiche. Se bitcoin non si muove, le altcoin non vanno da nessuna parte. Mettiamocelo in testa. Lato ETF invece cosa sta succedendo? Prima di vedere gli ETF, per chi se lo stesse chiedendo, sono su MexC, uno delle exchange che utilizzo per fare trading, soprattutto in questo momento. Perché? Perché come vediamo le commissioni sono bassissime. Maker 0%, taker 0.01%, estremamente semplici da utilizzare, non richiede nessun tipo di competenza chissà specifica, se non chiaramente per far trading. Non ha il KWC obbligatorio. E anche spot, molto interessante in questa fase, perché sia bitcoin che ethereum li puoi acquistare con il 0% di commissioni. Qua sotto ti lascio il link per MexC. Ricordo è un exchange centralizzato, quindi come tutti gli exchange centralizzati, i nostri fondi sono dati a terzi, qua sulla piattaforma. Esattamente come andare su Binance o qualsiasi altra cosa, non cambia assolutamente nulla. Quindi teniamone però conto in ottica soprattutto di sicurezza. Andiamo sul nostro ETF e vediamo cosa sta succedendo lato ETF, perché abbiamo detto i retail non si stanno cagando bitcoin, i retail sono le persone comuni, come posso essere io, come possono essere le persone appunto normali, quelle che vedi passeggiare per strada. Non si stanno cagando bitcoin, ma vediamo anche lato investitori cosa succede, no? Quindi tramite ETF. Vediamo che gli ultimi giorni non sono stati così rosei. C'è stato ancora qualche scarichino di Grayscale, tra l'altro anche ha fatto qualche accumulo qua e là a Grayscale, che non l'avrei mai detto. No, scherzo, l'avrei detto, ma comunque è più lo scarico che ha fatto che altro. Vediamo un po' di fermo qua e là a qualcuno che è andato secondo me a ribilanciare posizionandosi magari o portando liquidità sull'ETF di Ethereum. Quindi comunque nulla di rilevante qua da analizzare se non che c'è ancora qualche accumulo, quindi un po' di acquisti anche su questi livelli ci sono. Può essere che scendendo ulteriormente ci siano altri acquisti. Andiamo a vedere sto flop dell'ETF di Ethereum. Chiamo flop apposta, ragazzi, perché tanti mi dicono è stato un flop, è stato un flop, ma semplicemente perché non è arrivato a 10k. Rendiamoci conto di quello che diciamo. Ecco, guardiamo qua. 23 luglio. Come puoi vedere, gli acquisti ci sono stati e come. È vero che ci ha dampato in faccia come se non ci fossero domani Grayscale, come ci aspettavamo, però è anche vero che gli acquisti ci sono. È vero che in totale siamo in negativo, ma perché Grayscale è andato proprio pesante, cazzo ragazzi, guardate qua. Qui invece vediamo che comunque degli accumuli ancora ci sono. Niente di rilevante, ma perché? Come ho detto nel video di lunedì, se mi arriva l'approvazione dell'ETF, iniziamo a mercanteggiare sull'ETF a Wall Street. Ma ho un Bitcoin flat, un Bitcoin che non fa niente di particolare. E che ci aspettiamo? Segue, segue. Non è che ci sarà tutto questo interesse, queste cose. Bisogna attendere che Bitcoin si sposti. Se Bitcoin inizia a muoversi, che sia in una direzione o in un'altra, il mercato seguirà. In questa fase cosa succede? Succede che ci troviamo il nostro Bitcoin che è stagnante. Andiamo a vederci anche Ethereum, magari Ethereum ragazzi, che è ancora più stagnante di Bitcoin, quindi fa ancora più cagare, come possiamo vedere qui. Segue, segue quello che è l'andamento. Non è che possiamo aspettarci chissà che cosa. Se poi andiamo a cascata in tutte le varie altcoin, vediamo che c'è un po' di massacro qua e là. Ah, meno 10, meno 8, meno 11, meno 7, meno 6 e meno 15. Insomma, le altre non se la stanno passando per niente bene. Perché non se la stanno passando per niente bene? L'ho già detto. Questa è la situazione. Questo è Bitcoin. Come puoi vedere il nostro caro amico Bitcoin, non se la sta passando benissimo. Finché, ripeto, non mi supera questo livello qui, o comunque non torna a testarlo un'altra volta, ragazzi, c'è poco da fare. Questo è. Bisogna stare pazienti, bisogna vedere come evolveranno le cose. Eh, ma quindi l'alt season non c'è? Non si farà? Bitcoin lateralizza, le altcoin devono partire. No, eh, beh, contestualizziamo. Non è che se Bitcoin lateralizza, allora le altcoin partono e fanno l'alt season e vanno to the moon. No, anche in questo caso bisogna contestualizzare. Partendo dal presupposto che in questo movimento le alt hanno fatto bene. Comunque, hai tutta una serie di settori, hanno sparato e hanno fatto molto bene. In questi movimenti laterali la dominance è sempre stata alta su Bitcoin, tanto per iniziare. Quindi poco spazio per le altcoin. La narrativa l'ha presa qualche memecoin a caso, perché sono uscite le notizie, questo è intanto un milionario, solite cagate da memecoin. In questa situazione qui, le altcoin non hanno spazio per andare da nessuna parte. O Bitcoin riparte e si fa un bull, ma che sia un bull vero, cioè questo qui abbiamo fatto, un ritorno su livelli massimi, un stampato, un piccolo all time high, ma riassorbito subito, in poco tempo. Quindi o Bitcoin riparte e arriva almeno a 80k per vedere questa famosa alt season o qualcosa del genere, che spinge di nuovo su un po' le altcoin e tutto il resto, e allora ok. O se no, finché stiamo qua dentro, scordiamoci le alt season. E anzi, e anzi, io non ti sto dicendo di vendere nulla, ti sto dicendo però che c'è stato un buon margine, col senno di poi quando mi dicevano eh ma sei scemo che vendi, eh son scemo che vendo un paio di scatole, nel senso che io ho venduto, ho fatto bene a vendere, ho venduto, sto parlando di altcoin, ho fatto benissimo a vendere, in queste fasi ho riaccumulato, ma pochissima roba, qualcosina, quindi ho riportato qualche altcoin in portafoglio, godendomi degli sconti e utilizzando praticamente i profitti fatti qua e là. Quindi ottimo, è stata un'ottima mossa col senno di poi, ma ottima mossa col senno di poi perché? Perché è vero che seguo la ciclica, è vero che mi baso sull'analisi ciclica, ma è anche vero che lo scorso ciclo a quest'ora io ero ancora dentro con altcoin e con tutto il resto, non avevo tirato fuori nulla. Perché? Perché era una situazione molto diversa, era molto più simile alle classiche, no, ai classici cicli di bitcoin. Qui c'è qualcosina di diverso. Abbiamo, ripeto, narrativa ETF che non c'era. Abbiamo però una potenziale crisi globale alle porte che va contestualizzata. Cioè, i mercati sono in frenata. Stiamo parlando di un mercato, prendiamo lo statunitense, prendiamo la I, la bolla che han tirato fuori. Nvidia ha fatto, adesso non ricordo, ma mi pare un 150%. Non è una cripto, ragazzi. Non è una cripto. È un'azione. In questo contesto, di che cosa vogliamo parlare? È palese che siamo in bolla. I tassi sono saliti, ora inizieranno a tagliarli, ma intanto, mentre i tassi salivano, l'economia si frenava. È vero che abbiamo visto degli exploit incredibili, ma sì, si frenava. Si andava a contenere l'inflazione. Intanto la crisi è generalizzata. I prezzi e le cose sono salite, sì, ma i salari sono uguali. Quindi si va a creare disparità, si va a creare tutta una serie di problematiche che poi portano a quella che si chiama la recessione. Quando iniziano a tagliare i tassi di interesse, lo fanno per evitare di andare in recessione. Oppure cercare di limitare il più possibile il danno, riportando pian piano a salire quella che è l'inflazione, facendo quello che si può, regolando appunto i tassi. In questo modo fanno ripartire l'economia, la rispingono. Ma da lì, finché non tagliano, quindi finché non raggiungono un taglio degli interessi sensato, si sta flat, o si va in rosso, si scende. Quindi prepariamoci anche a questi scenari. Non che la ciclica dice che 2025 è l'anno più bello. Sì, ma se l'economia globale crolla, può essere l'anno più bello che vuoi per la ciclica, ma l'economia è in crisi, tutto va in crisi. Punto. Senza stare lì a girarci troppo intorno. Adesso voglio mostrarti un'altra cosa importante. Qui siamo su TradingView, qua vediamo i nostri cicli, vediamo il nostro Bitcoin. Che bello, che bello. Andiamo ad aggiungere il Global Liquidity Index. Ti lascio qua sotto magari il codice, così da poterlo inserire. È un Pinescript. Vai qui su TradingView, clicchi Editor Pines, te lo incolli qua, e poi li clicchi, aggiorna sul grafico, o aggiungi sul grafico, e te lo trovi poi sul grafico, e te lo vado a mostrare immediatamente. Eccolo qui. Che cos'è questo indice qua, che ti sto mettendo, il Global Liquidity Index? È sostanzialmente, un indice della liquidità globale. Per intenderci, dei soldini disponibili globalmente. Va a analizzare le banche, banche centrali, di diversi stati. Ti vado anche a mostrare qui. Eccolo qua. Va ad analizzare un po' di cose, e trae delle conclusioni, su quello che è la liquidità globale, semplicemente. Come possiamo vedere, quando la liquidità sale, salgono i prezzi. Magica. È normale, no? È palese. Quando la liquidità scende, ci sono meno soldi sul mercato, di conseguenza, si tira via liquidità dagli asset a rischio, e scende. Quindi i prezzi seguono la liquidità. Voglio farti vedere una cosa importante, qui, in questa fase. In questa fase abbiamo avuto la liquidità in calo, ma i prezzi che sono saliti. La liquidità, di nuovo, vabbè, sì, qualche storno così seguendo, però di fatto abbiamo avuto liquidità in calo, e prezzi in salita. Ora, in questa fase, con una liquidità globale relativamente bassa, e i prezzi comunque alti, che cosa può succedere? Scenario numero uno. La liquidità scende ulteriormente. Scendere ulteriormente, porterà inevitabilmente a scendere anche bitcoin, magari su questi livelli qua, quindi sui 50k, magari sui livelli più bassi, quindi magari 40k. Possibile? Assolutamente sì. Con una liquidità globale che scende, scende anche sta roba qui. Ma partiranno con i tassi di interesse, li abbassano. Ok, allora lo scenario probabilmente sarà questo. Iniziare a abbassare i tassi di interesse, inizia a stagnare un po' la liquidità, quindi fa sostanzialmente, come puoi vedere qua, questo. Dopodiché, inizia di nuovo, magari, a salire pian piano la liquidità. Quindi che cosa vedremo qua? Tan tan! Ancora lateralizzazione, cali, robe di questo tipo, prima di vedere qualche salita. magari ci fa qualche pump perché parte la riduzione dei tagli di interesse, si sconta la notizia, va bene, sì, possibilissimo, ma questo è quello che io mi aspetto prevalentemente come scenario. Ora, andiamo ad aggiungere i tassi di interesse e guardiamo molto attentamente una cosa. Guardiamo come i tassi di interesse, qua siamo su Bitcoin, ma io posso fare questo gioco su SP500, su qualsiasi cosa, anzi, nascondiamo un attimo Bitcoin, se si riesce, ecco qua, e guardiamo solo tassi di interesse, che sono qua, questo qua in arancione, e poi il Global Liquidity Index, quindi la liquidità globale in giallo. Come puoi vedere, quando viene abbassato il tasso di interesse, cosa succede? Succede che si innesca una salita della liquidità. Perché? Perché diventa molto più cheap, molto più economico far che cosa? Prendere in prestito denaro. Di conseguenza viene stampato più denaro, di conseguenza cresce la liquidità. Però vada bene una cosa, che dal momento in cui iniziano ad abbassare i tassi, non succede assolutamente nulla. iniziano ad abbassare i tassi, e qua rimane flat la liquidità. In queste fasi, ricordati che quando iniziano ad abbassare i tassi, qui magari si è in recessione, si è in crisi, l'economia è rallentata, quindi ci sono tutta una serie di fattori a tenere in considerazione. Poi, quando si raggiunge un livello interessante, cosa succede? Pum, inizia a sparare la liquidità. Intanto rimane flat, rimane piatto. Poi cosa succede? Che vengono alzati i tassi di interesse. Perché? Perché la liquidità è salita, è salita l'inflazione, quindi tutto costa di più, mercati e azioni comprese, e allora cosa succede? Succede che si inizia a aumentare i tassi, e man mano che si inizia a aumentare i tassi, i prezzi, la liquidità, o meglio, storna, quindi ritorna a abbassarsi. Ora in questa fase siamo flat, mercato che è sceso esattamente come qua, inizieranno a tagliare i tassi, cosa succederà? Che inizieranno a tagliare i tassi, ma qui il mercato rimarrà sostanzialmente flat per un po', quindi parlo di liquidità. Poi a un certo punto, quando si raggiungerà il target di taglio di tassi, inizierà di nuovo a salire il tutto, quindi rimarrà flat per un po', i prezzi saliranno e quindi si ripartirà e si avrà la nostra vera bull. Ora cancelliamo questa roba qui, aggiungiamo il nostro grafico di bitcoin per analizzare insieme, anche qui che vi devo dire, abbiamo visto i tassi sono scesi, da che erano alti e hanno iniziato a tagliarli? Come puoi vedere qua, bitcoin non è andato to the moon, anzi, ha iniziato a stornare. Quindi laterale, lateral discendente se vogliamo. Poi quando si è raggiunto il target, ma intanto qua quanto tempo è passato? Siamo passati da cos'era 19, luglio 19, a aprile 2020, quindi non è che sono massi dai due giorni e via. No, c'è un po' di tempo, è graduale, quindi qua il mercato era stagnante. Poi di nuovo, iniezione di liquidità, tasso di interesse bassissimo, più il QI, stampaggio di denaro, ovviamente la liquidità è cresciuta esponenzialmente, i prezzi di conseguenza. Qua ci aspettiamo le stesse identiche cose. Quindi queste sono le dinamiche importanti da analizzare. Non stiamo ad analizzare, eh, guarda, quello lì ha detto che farà to the moon, e quell'altro ha fatto così, e quell'altro ha fatto cosà. No. Se vogliamo fare speculazione di breve termine su asset come bitcoin, o sul mondo altcoin, quello che ti pare, devi guardare questo, devi guardare la liquidità, devi guardare i tassi di interesse, devi guardare come si sta muovendo un asset, rispetto ai suoi fondamenti, rispetto alla sua analisi ciclica. Sì, ma contrapponendola all'economia reale. Perché è l'economia reale che fa la differenza. Io sul grafico posso trovare tutti i pattern che vuoi, testa a spalle, quello che cazzo ti pare, ma, se l'economia globale fa schifo, il mercato farà schifo. Non è che tu hai visto, no, io ho visto qua che ci sono le cose di Elliot, le onde di Elliot, e quindi andrà su. No, 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 non basiamoci su questo per operare, basiamoci su roba tangibile, su roba reale. Questi sono i dati che interessa quando si fa analisi, quando si va a guardare veramente come siamo posizionati. E ricordati che se vuoi far breve termine, o comunque medio termine, guardi questo, ma se la tua idea è di posizionarti con orizzonti temporali di 10, 15, 20 anni, di sta roba qui, non te ne frega nulla. Ti interessa solo che cosa? Capire dove posizionarti per acquistare bene, magari in determinate fasi, o avere un'idea di massima di come si stanno muovendo i prezzi, ma un'idea di massima. Cioè non è che tu vedi, l'incroci, le cose, allora esco, compro, faccio. No, segui bene i soldi. Se capisci come fluisce la liquidità, allora capirai anche quando e come posizionarti su un asset, e se comprendi che quell'asset che stai comprando, prendiamo Bitcoin, posso capire l'altcoin che puoi fare su questo giochino, ci metti la total, magari una total 3, e ti vai ad analizzare bene su tutto il mercato altcoin, se vuoi fare questi giochini qua, con le liquidità, con i tassi di interesse, ok, ma se ti vuoi posizionare lungo termine, lo puoi fare tranquillamente, e posizionarti lungo termine su un asset, come può essere Bitcoin, implica aver capito qual è il suo potenziale, sul lungo termine. Bitcoin è un asset molto simile a loro, ma che ne va a superare determinate caratteristiche. Quindi è un asset potenzialmente veramente, veramente interessante sul lungo termine. Se questa, la strategia che segui, quindi è un posizionarti su un asset che hai compreso fino in fondo, che hai capito come funziona, che hai capito dove sta il suo valore, che hai capito quanto può funzionare in futuro, e che hai compreso anche quali sono i suoi punti deboli, allora stiamo giocando su un altro livello, stiamo facendo tutt'altro sport. Non vado a strapparmi i capelli, oddio il mio portafoglio è sotto del 5%, ma che cazzo me ne frega se so esattamente dove sto andando, ho una strategia, e capisco come funzionano i mercati, ben venga. Ecco perché Stefano aveva detto diversi mesi fa, quasi anzi inizio anno, che si sarebbe tenuto almeno un 50% di liquidità sul portafoglio. Ecco perché Stefano diceva che avrebbe dampato Molta altcoin, avrebbe preso profitto, e avrebbe aspettato. Per questo motivo qui, e l'ho detto più e più volte, se mi segui sul canale lo sai, l'ho detto più e più volte, è questo quello che bisogna guardare. Dobbiamo guardare come si muovono i tassi di interesse, dobbiamo guardare come si muove la liquidità. Sono queste le due cose chiave importanti da tenere in considerazione. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia like e iscriviti cliccando questo pulsantino qua per rimanere aggiornato e non fare errori grossolani sul mercato. Qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, ripeto, qua sotto è tutto lo spazio per scrivermi, oppure entra nel canale Telegram dove discutiamo in tempo reale anche di questi concetti qua, quindi scrivi sul gruppo Telegram, li rispondo sempre io, direttamente, e quindi possiamo appunto avere uno scambio di idee, di opinioni, un canale più diretto ecco insieme a me. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.